Dodge Durango RT è il SUV premium firmato Dodge, una combinazione di efficienza, elevata tecnologia e capacità di traino eccezionale, racchiuso da uno stile aggressivo e un piacere di guida ai massimi livelli di mercato. Le linee di Durango sono state ridisegnate per renderne più evidente lo stile muscol, caratteristico dei modelli Dodge. L'esterno è filante con un nuovo design orientato alla grinta, con la grande presa d'aria sul cofano, la fascia anteriore performance e i fari contornati di nero che lo rendono ancora più cattivo. Nella fiancata spiccano i passaruota che alloggiano i pneumatici all season da 20 pollici. Le linee, che risultano filanti e pulite, raccordano la perfezione con il portellone, che ospita una fascia di evidente ispirazione charger e che contorna i LED della fanalleria posteriore. Sotto il cofano trova alloggiamento il V8 EMI da 5700 cm3, capace di erogare 380 CV e oltre 500 Nm di coppia. Disponibile presso il gruppo Cavauto anche in versione 250 CV e con alimentazione B-Fuel a GPL. All'interno di Dodge Durango si trova la stessa eleganza sportiva che lo contraddistingue all'esterno. La piacevolezza dei materiali e la versatilità degli interni permettono di ospitare comodamente fino a 7 passeggeri. I sedili anteriori climatizzati offrono il giusto mix di comfort per i lunghi viaggi e di contenimento laterale per un uso più sportivo. Anche nel volante in pelle ritroviamo le linee classiche di Dodge e racchiude vari i comandi tra cui il cruise control adattivo, il collision warning e le leve del cambio per l'uso sequenziale. Al centro della plancia spicca lo schermo touchscreen da 8,4 pollici, vera interfaccia per sfruttare al meglio tutta la tecnologia di Durango. Come navigatore con mappe 3D la possibilità di interagire con i più comuni sistemi smartphone e un sistema audio da oltre 500 W. Dodge Durango è la vera alternativa ai classici SUV di alta gamma ed è l'unico Muscle SUV disponibile sul nostro mercato.